Era ubriaco il 42enne alla guida della Fiat 500 che sabato pomeriggio sulla strada statale 122 nelle vicinanze del villaggio Santa Barbara ha invaso, così come emerso dai rilievi dei poliziotti della sezione volanti, la corsia di marcia andando contro una Chevrolet Matiz con a bordo un 24enne per poi schiantarsi su un muro di cinta all'altezza del civico 45 di via Xiboli. Estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, l'uomo e il 24enne sono stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per le cure sanitarie, avendo entrambi riportato delle lesioni a seguito dello scontro. Qui, a seguito dei controlli, veniva riscontrato al conducente della Fiat 500 un tasso alcolemico pari a 3,02 grammi sul litro, pertanto l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e il mezzo sequestrato. A Gela invece gli uomini del locale commissariato hanno tratto in arresto a seguito di un nuovo ordine di esecuzione e di espiazione di pena detentiva a suo carico, il 25enne Giovanni Alessio Balbi già in regime degli arresti domiciliari. Il giovane, resosi responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata alle rapine, furti in appartamento, danneggiamento a mezzo incendio, oltre che più volte dei reati di evasione, resistenza pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come è stabilito nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, dovrà scontare in carcere due anni, sei mesi e quattro giorni. Cinque le persone denunciate sempre in questi giorni a Gela dalla polizia, una 51enne per furto di energia elettrica, una 58enne per diffamazione, un 33enne rumeno per il furto di rame in una struttura pubblica, infine due uomini rispettivamente di 41 e 33 anni per il reato di ricettazione, poiché a seguito del sequestro di un'imbarcazione il loro uso da parte della Guardia di Finanza. Nell'operazione Fuel for Free è stato verificato che parti della stessa erano di provenienza furtiva. Nell'ambito dei controlli amministrativi dei locali della Movida Gelese, attuati il 19 e il 20 gennaio, la polizia ha identificato 117 persone, controllato 59 mezzi, tre persone agli arresti domiciliari e quattro esercizi pubblici, dove sono state elevate sette contravvenzioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e due infrazioni sulle leggi sanitarie, tre invece le contravvenzioni al codice della strada.